Siamo attivati da soli perché abbiamo sempre avuto il sospetto che fosse stato Lucia a fare qualcosa. In che maniera l'avete cercata? Noi abbiamo fatto dei gruppi privatamente dove ci dividevamo alcuni là, alcuni da un'altra parte e la cercavamo in pozi, qualsiasi cosa che trovavamo, tipo giubbini, caschi, qualsiasi cosa, anche una pallina rossa, qualsiasi, la segnalavamo subito ai vigili.